not this game 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 e bello a tutti ragazzi Jefflex che vi parla ed oggi siamo tornati nelle cake wars in compagnia di Dark Felix bello e in compagnia di Lollo ciao mi raccomando ragazzi no mi interessa comunque mi raccomando ragazzi condividete il video a tutti questi amici per fargli vedere questa bellissima modalità giusto iscrivetevi al canale di Lollo ah esatto dovrete anche i canali di Lollo e di Dark Felix sotto in descrizione ma adesso possiamo iniziare con la partita ok ragazzi ecco che la partita è iniziata ovviamente la dobbiamo vincere giusto Lollo inizia con Lollo non vi dugno un copp di pancia lo so io sono best pvp Lollo non si può distruggere la mappa lo capirete un giorno no secondo me non lo capiranno mai Vabbè grazie Hai la spada Non c'era niente Vai Lollo controlla il centro Lo porto tutto in base Madonna mia Ma perché si stanno ammazzando fra compagnie di team Ma io ora l'ho visto Uno con la sua spada Dark Felix mi passi degli smeraldi Vieni qua Dove pensi di scappare Ma che fa sta vomitando del ferro Morto Hai fatto un pezzo di gambaglio a testa Io già ce l'ho i gambagli Vabbè lasciali in base così quando muoio Da notare i rossi che ancora sono in base Cioè loro con calma Fra una mezz'oretta arriveranno al centro Vabbè ma fanno pure bene Cioè almeno non li lasciamo È caduto Bella lì Mi piace tutta sta kill Che problema Buttato perfetto Ma che sta combinando quello la che viene al centro in continuazione Secondo me è pure uno spreco di materiali Lollo se ti fai buttare ti uccido Ciao Allora ecco mi bevi Morto Mamma mia Mamma mia un pro veramente Invece gli sugo il fondo Ma perché sta ritornando Madò di nuovo Ma basta Ragazzi che ingegnere che sono No questa qua Mettetela sopra Mettetela sopra Aspetta Ma perché siamo sempre nell'isola dove non c'è la cassa dietro Ma mi spiegate che cosa c'è quella cassa Non l'ho mai saputo Niente È tanto per Per È praticamente una cassa che ti serve Quando tu vuoi nascondere qualcosa dai tuoi compagni di team Che loro non sanno che c'è la cassa là dietro La metti là Che è schifo Beh poi ci sarà un aggiornamento della cake Questa ancora è in fase di beta Ovvio anche tra tre mesi sarà in fase di beta Perché sicuramente ce lo scordiamo Perché poi hanno fatto il ponte con l'ossidiana Scappa Lollo Scappa Ma che vuoi fare Morto Ovviamente qua ci possiamo fare la postazione tattica Vabbè questo qua ogni due secondi viene Aspetta che gli do una spadata Oh no c'è uno al centro Oh è arrivato Vieni qua Morto Ma è quello È sempre lui Ogni due secondi viene al centro Vabbè dai arrivo Arrivano i rinforzi Sono morto Perché si uccidano Probabilo Raga io rimango Perché c'è uno che sta distruggendo il loro letto Ma che sta facendo quello là Morto Ma che sta combinando Ma che sta facendo Dipendimi Giovanni Aspetta che li devo distruggere No Ma che sta facendo quello là Non lo so Oh l'ho sbardata Ma si vuole distruggere la sua torta Ma che sta combinando Come hai sbardata Io potevo mangiarmi adesso Non posso più Aspetta Eh vai Mangiala Togliti Dobbiamo mangiare in santa pace Eh vabbè Lollo Tieni la base Tanto che noi siamo qua sulla loro torta Vai L'ultimo pezzettino Aspetta Aspetta Io 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 Ok lo mangiato Mi piace Uccidiamo le uccidiamoli Il primo è morto A posto Crafty checco Ragazzi vi ricordiamo perché li espelliamo Perché poi Resterebbero nella mappa Daniele Cavano Daniele Cavano Vabbè sono in piccina Ma Sonic abbandonato Erano nello stesso partito No peccato però Perché Sonic era simpatico Raga c'è che la Madonna che è scarso Ma io non ne voglio vedere più Basta Cioè Madonna Altro che Sonic Qua ne abbiamo un altro Che cade dai ponti senza che nessuno lo tocca Non con l'aria Dobbiamo andare nell'isola del verde Posare tutti i miei materiali in una cassa E poi fare il ponte Così in caso mai se cado Non ci sono alcun problema In quanto le cose non le perdo Non mi prende però No Facciamo la bandiera A due colori Oh raga sto facendo la bandiera Oh mi stanno frecciando tutti e due Ma se li lascio da dietro adesso Mannaggia sto mongoloide di lollo Ma io non lo so Lo devo salvare sta giù Puoi fare il montaggio su pvp Sì sì Oh ho capito Raga la torta ce l'hanno senza niente Praticamente No ma che cosa dici In serio Ah da mezzo adesso sto staccando No Raga uno è scappato Uno è scappato dal ponte Dai E li ho distrutto due pezzi Guarda ma perché tutta la sigla L'utilizzo da qua L'ultimo Io io papà me lo mangio io No fatemelo mangiare a me Togliatevi No Mi siete mangiati la torta senza di me Mi siete permessi Ma dove sono? Boh Sono là dal verde Ma sono due Ma dopo me la Aspetta voglio vedere un attimino Quanto l'hanno griffata la mappa Vabbè dai C'è di peggio Ma poi ci sono due griffa Ci piace di peggio Ma poi sta zucca qua dove l'hanno presa? Questo lo vuole capire L'hanno presa quella zucca Io non ho piaciuto la zucca Nella mappa Boh No forse tipo quella zucca Si vuole fare la zucca Cioè non vende proprio Ma non credo Ma il pro No c'è un problema raga Io l'ho visto solamente uno Che stavo andando nell'isola del verde Allora Tu puoi colpa Non lo dobbiamo fare son Ah ok Lo faccio io Aspettate Mi fatemelo uccidere No No lo puoi scrivere Abbiamo vinto Mi ho buttato sotto Eh no Lollo 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 tu prima ne hai acceso Come mi sei permesso Allora ci sarà la penitenza divina Divino Il mio arco E' qua Ah è caduta da solo Comunque ragazzi Per questa Che questo è tutto Spero di avervi se piaciuto Come al solito Vi ricordo di passare I canali Li troverete in descrizione Niente ragazzi Da Ifrex Roll Dark Felix E' tutto Bella Ciao 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 Ciao